Ciao bello sono Lovridis e siamo su una nuova rubrica forse non so quanto continuerà perché sono pazzo Tempo fa, quasi due mesi però non lo dire in giro, avevo chiesto di lasciarmi il tuo codice allenamento sul Rocket Trig Ovvero un allenamento che hai fatto tu, cioè il codice di un allenamento che hai fatto tu tramite commento Cioè come commento perché non so parlare E così li proviamo insieme, li vediamo insieme e se qualcuno servono ovviamente trovi in descrizione oppure entravi come primo commento tutti i codici Io ancora non li ho provati e pensiamo fosse passato meno tempo da quel video essere sincero Quindi andiamo in training Ovviamente mi devi fare sapere se l'idea ti piace e se ne puoi vedere altri Questo esempio è di Alien e questo probabilmente è un Air Dribble Vediamo, posso andare dal tetto oppure un Air Dribble probabilmente perché non si stacca Vabbè, dovrebbe essere Air Dribble, poi non lo so Si possono fare talmente tante cose con questi palloni Questo cos'è il tetto? Nooo, ho toccato il tetto Vabbè, facciamo così Easy Boh, io li faccio così Sì, Air Dribble, questo me lo conferma È un allenamento fatto apposta per gli Air Dribble Ci sta È questo? Tiro diretto? Così? Non lo so Va bene Boh Che è forse per sempre? Oh No, no, no Aspettare, stavo volando L' respeto in aria Volavo Ok Vie Non si doveva fare così Dove essere un ripple puro Sicuro Va bene Questo invece cosa dovrebbe Che devo fare qua? Cosa devo Tipo cos... Non penso che sia una cosa così Cioè Non lo so E questo? Aspetta questo è dopo il rebound Ah si ok 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 No Mi piaciucchia Ci sono cose da tiri Che tipo I primi tre Vanno bene Poi gli altri sono Strani Cioè ci può stare Come warm up Ci può stare comunque Potrebbe essere un buon Un buon riscaldamento Questo invece è di Trime Ed è Al flip shot save Ah questo c'è scritto Nel titolo Quindi è più facile Quindi Tiri E salvataggio in al flip Va bene Vediamo Ah dovrebbe essere Ah ok ho capito Quindi ti metti così E boom E ci sta per allenarsi in al flip Con l'al flip Questo dovrebbe essere un salvataggio Quindi ti metti così Penso di sì E poi vai a tirare in teoria Ah perché non puoi Puoi fare l'allenamento Solo attaccante o difensore Ecco perché No Ma Vaffa Questo Questo Ok E questo è un'altra parata In al flip Quindi Eh no 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 Quanto è andata veloce Ehi quanto va Ehi aspe aspe Ehi aspe Ehi non ce la faccio Ok Oh Ok 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 Breve ma intenso Ci può stare per riscaldarsi No più per riscaldarsi E per prendere confidenza Con i Che ho fatto Non lo so L'ho rimesso L'ho rimesso Vabbè non è un problema Ci può stare per prendere confidenza Con gli al flip Questo è Cook Seer Pinch Di fulmine Che schifo Ha fatto molto schifo Eeeh Eeeh Quanto alto Penso sia il Cook Seer Pinch Più lento della storia Lo teniamo Lo teniamo Lo teniamo Lo teniamo Va bene Cook Seer Pinch Più lento della storia Si tiene Fortissimi Questo è di Samme 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 Sarà Striker Ho capito Ho capito Cosa è questo Dribble Eeeh Eeeh Campionissimi E' qua Che devo fare Il controllo Che devo Vado a partire sul muro Hai 0 secondi Quindi probabilmente È il controllo del pallone E devo andare in porta Sando te Così eh Vado ad andare sul muro Che faccio Non lo so Probabilmente È un controllo È un riscaldamento Quindi è un controllo Palla per andare in porta Di nuovo Perché tu ti filo uguali Non ho capito Sono Ma dovrei Qualcosa altra Che non so Magari Tipo andarla sul muro Sono indeciso Che devo fare Sando te Semplicemente portarla Le lato in porta Ragazzi Ce la faccio Ragazzi Ce la faccio Eeeh Che siamo pro Quando siamo pro È soltanto Il primo Questo è il trentesimo Sono una sega Non riusci a prendere Va bene Un altro Sì Senti Questo non ce lo facciamo Al contrario Un po' mi scoccia Quindi facciamo Che lo porti Mettendo in porta Così Che dici E poi qua Facciamo Cioè È un buon all'evento Comunque per controllo È flick Per carità Ci sta È un buon riscaldamento Qua invece Dal muro Sa me Giuro che ti Giuro 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 Che ti Ah Quante volte ho pronto Sto tiro Cos'è questo Invece Cos'è Cos'è Cioè Quel tiro è impossibile E poi cos'è Questo è il flicchino Che devo fare Che devo Che cosa vuoi da me qua Che devo fare Non lo so Cos'era quel tiro Come Cioè Questo è un air triple Questo è un air triple Lungo C'è arrivato Ah a posto Va bene così Va bene Non mi intera Sono stressato Da quel Cos'è questo Cos'è Ma Sto pallone Così veloce Quando ti Devo arrivare Così veloce Perché Così Ma Sa me Sa me Con i miei nervi Stai giocando Che devo fare Cosa vuoi dare Tiro diretto Ma Porca E' E' Bapang Cioè Bello 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 Ma che devo fare Che devo Ma Bapang Round Che devo fare Non ho capito Bu Questo non l'ho capito Però Ce lo contiamo buono Perché E' qua Al contrario Bu Invece Qui Si si un altro Di quelli Si si un altro Drop A posto Ho cittato Non mi interessava Sabe Tutti Ah Così Guarda Dal tetto Easy A posto L'ultimo Cos'è Dal muro Tiro diretto Oppure Devo intercettare Non intercettare Non penso Sarà dal muro Si è dal muro Ma Guarda che non è Ma che Cosa stavo facendo Io se Era un doppio tocco Dal muro Guarda qua Ma che Cacchio Ce l'ho dovuto pure fare Vavangu Ah ma che Me l'ha dato Ah che Peccato L'ultimo Tiro Non l'ho fatto Ok Sam E' bandito Da questa rubrica Per far Consistenza Nei tiri Se anche questo Mi fa impazzire Questa rubrica Inizia E finisce In un episodio Allora Ci sono 10 tiri Questo è un tiro Diretto da qua E' fuori Vero Dentro devi andare Dentro devi andare Dai con un bel pallonetto Dai con un bel pallonetto Yeah Superforti Superforti E' questo No 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 Eh sbaglia Boom Bitches Stessa cosa All'altro lato Dov'è la volca Ma porca di quella Boom Fuori Boom Bello forte forte Questo è mezzo Aerial Vabbè Questo ci sta come allenamento Come riscaldamento Questo già è buono Perché li mette speculari È la ballcam Lauri di stup Dicevo Questo li mette buone Perché li mette speculari Li mette Vabbè Questo è buono Come riscaldamento Perché li mette speculari E puoi allenarti In entrambe le parti Che non è un aspetto Da sottovalutare Per niente No dovrebbe esserci L'altro lato uguale Facceva schifo Ma lo contiamo Com'è buono Perché ovviamente Lo capì Ehi Che calmo A sorpresa Dopo a sorpresa Non scopo La bo Perché tolgo sempre La ballcam La ballcam Che fastidio Eh no Allora tu devi andare dentro Stronzo Vai dentro Vai dentro Dentro devi andare Devi andare Dentro Ma fracca Devi andare Dentro devi andare Va va Questo comunque ci sta Questo ci sta Ci sta Ci sta Questo è bello bello Questo c'è un buon riscaldamento Sono gli ultimi quattro Ah ma non ho visto di che erano gli ultimi due Non ho detto Vabbè si vede A schermo si vede Questo tiro diretto In aria Che devo fare qua Che devo Cioè devo tirare così Bu Si No Ehi quanto è alto Che devo fare qua E perché è così alto Che devo fare Devo prenderla in Che devo camminare Non lo so Bu Va bene Qua invece Questo è un po' più Questo 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 è un po' più sempliciotto E potrebbe stare Cioè E potrebbe essere buono Perché appunto è un po' più Chi è All'inizio di rocchettili Che sta imparando a giocare Quindi è buono Sì vedi Sono i palloni classici Sì questo è buono per chi Sta imparando a giocare Che sono i classici palloni iniziali Quindi questo lo consiglio tantissimo A chi sta iniziando a giocare da poco Questo era di Ricky Ok quello di Ricky Questo invece è di Franz Vediamo Sono sei tiri Questo è il dribble Sì questo è il dribble Dobbiamo scendere un po' Scendiamo Aia Che batoschetta Come per is È un po' troppo alto Un altro air dribble Perfetto Mi sa che questo È tutto Air dribble Sì E sono speculari Come lo so No non è speculare Poco fa l'abbiamo fatto da questo lato O dall'altro Non mi ricordo No ma l'inizio era diverso Quindi sa che non è speculare No sono tutti da questo lato Ti consiglio di farli speculari Perché è meglio allenarsi da entrambi i lati Per gli air dribble Non solo da uno Perché farli sempre da stesso lato Non è buono Dobbiamo allenarsi da entrambi i lati Quindi questo era un buon allenamento Per gli air dribble Il classico Per gli air dribble Sono quasi tutti uguali Più o meno Perché devi andare dal muro O da terra Quindi siamo là Questo invece è di Nico Dove Dove Perché è qui Eh Impazzito Su pillars E che cos'è Eeeh Sei pazzo Ah quindi è goli Ah bello Un allenamento difensivo Ah è usato i rimbalzi del pillar Che figata Ah figa sta cosa però È carina Pensavo sia un attacco Quindi ci pensavo Eeeh no 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 Non fareste cose stronze però No 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 che sei stronzo Però fare così Che sei stronzo Eh Ok Bello comunque Mi piace questo Anche perché c'è una mappa Diversa e varia Sì Eeeh quanto forte La cosa negativa Dell'allenamento difensivo Sai cos'è Che poi vai a memoria Perché un tiro così forte Comunque Da niente È difficile andare a pre... Come sono arrivato Scusa Sono andato dritto Che so Vuol dire Scusa vado dritto Ah perché a volte Se muovo Scusa la telecamera C'è il tiro parte Dicevo I tiri da In allenamento Cioè I tiri difensivo Perché sono Veramente Non so parlare Cioè I neuroni Non si connettono Gli elementi difensivi Dopo un po' vanno a memoria Quindi sono buoni Magari la prima volta E per fare qualche spazzata E la prima volta La seconda ci arrivi Questo è drop giù Va bene Però c'è carino Questo per allenare Un po' i riflessi Ci può stare Però poi purtroppo Va a memoria Ma ci sta questo Mi è... La varia... Mi piace dalla variazione Ma li sto registrando Vero? E questo è di Gabri Gabri Sora Best goal Play Dai 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 Puff Eeeh Doink Non so se devo fare Un tiro dal tetto Però va bene così Non lo so Questo Eeeh Che devo fare? Eeeh Che devo fare? Aspetto Aerial Vado di aerial Boo E io che ne so E' strano sto movimento Qua invece Tocchettino tattico E boo Nessuno Ha visto Niente Boo Ecco E boom Non so Cioè io qua Lo faccio dal tetto È una buona posizione Per partire dal tetto Eeeh Ma perché queste cose Ragazzi Perché Ah Puff Oh Oddio Questo cos'è? Io arrivo alla N2 E non ce l'ho fatto Va bene così Questo era il nono Ah c'è l'ultimo ancora Ma porca di quella Di cointissima Ma porca This time I've got the blues Holiday Funky blues I've got the holiday Funky blues Mama's living all alone And I just can't I've got the blues Funky blues